molto buona gente qui è un nuovo video per il canale di GTI e... credo che non si vede bene se mi piace gravi andiamo in prima persona qui stiamo senti grabando un ratito qui per a voi tengo armata stiamo grabando mi sono in ero ma te metto uno mi sono scappata in questo car mi sono in ero spero non ti rispare chi è in ero chi è in ero chi è in ero Sì, Sola, me vas a metter a qui. Ui, se ve molto guai la casa. Perché voglio essere matando gente io? No, non si può. Stiamo molto a fare una misione. Una misione! O che, o che! Vamos a manejar otra vez. Vamos a ir a fare una misione! Una misione Saitun. A ver, come se maneja. Aqui no ha reglas, no hay reglas. per me non c'è comprare armas qui c'è gordito e questo via a casa si mi corre come a casa vanno benvenuti a un un martillo non necessitiamo comprare non necessitiamo perché morì 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 non necessitiamo mission fel sta mirando algo extraño Se me cayò Se me cayò Gente, se me ha caído La cámara Uy, se me ha caído Y estamos Ya, vamos a empezar Ma cosa cosa Pero quantas velas tiene Ese color Está chingón Pero no lo podemos comprar Vamonos Por qué Por qué Solo porque compro Dice Franklin No tiene dinero suficiente Para comprar Las escopetas Vamos a morir Entonces Porque Vamos a morir Y así pasamos la misión Verdad que sí Las escopetas Que necesitamos La escopeta Máximo Si color me Vámonos Vámonos wey Vámonos 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 Uy Není como se ve aquí Uuu 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 Che Prezzo Si non Poi Il controllo O qui Non E Non C'estamo C'estamo Cisci Suscrivense Porfa A este Canal Suscrivense Porfa una moto io miro a ese carro sta guai però no cabiamo a los 3 felice a los 3 si con otro andas cavando no agrandamos el 3 no agrandamos my car my car mira mira como lo tengo todo sucio casi le doy vuelta a mi cámara no le entiendo en la música pero ahí voy caminando ve en el carro te gusta mi moto si va vamos a ver como como dice estos perros lo pueden matar no queremos ratas muertas de micrón micrón yo andaba caminando por micrón estos cabrones se van a morir por ahora necesitamos armas perdón 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 gente estoy un poco enfermo así que ando ando gripe pero digamos que ese ser enfermo verdad que peo pues que peo pues que peo pues que peo que peo puede matar sin perro veis lamborghini tengo esta arma tengo esta arma eso no llamas nivel pro entiendan guapo 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 quedar unos quedar unos uuuh 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 tengo que cargar quita tu un bebé uuuh 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 mi splutu uuuh franklin murió uuuh uuuh pero no importa vamos a seguir con nuestro video io bro ora sta drogare che wey perché te escondes allà lo voy a matar se salissi è il labio è il labio è il labio io necessito vita oh sono 6 se verga che adesso ora si perchè No possiamo andare per qui E' che... Devemmo andare per qui Io credo che si 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 passa la misione Corran No pari No era per qui verda Era per qui Si era per qui No era per qui Donde tengo que ir Tengo que apiarme todo del avion Donde estan aviones Necesito explotar esto Tal vez Necesito explotar esto Yo casi no fuego Ya esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Solo disparamos Disparamos Shhh Gasolina Oye Buena Estamos... Casi se mueve calle ora l'altro cavolo si matiamo già ora non abbiamo di andare non abbiamo di andare per qui no Franklin è sotto è allà amica credo che non abbiamo bisogno per qui questo è il parco soida hago parkour yeah yeah hago parkour es por aqui si es por aqui yo sabia yo sabia que tenia que apriar ese maldito helicóptero trattate de ahi ai si se emborrachan voy a cambiar la camera aqui porque te marea un poquito verdad y asi no queremos estar que mi gente se maree vamos a manejar porfa suscríbanse no se si lo he dicho ya se me olvido un trailer un maldito trailer si da puy esa puerta no cierra ahi esta cerra 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 dije yo no no que te cabrara pinche carro pinche tu carro perro carro tata mujer ay que te ates que no se manejar tengo que ir un poco tengo que ir un poco chenga por favor tu 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 ru tu y si ca olabilir Oggi ci vediamo insieme, già quasi, già quasi. Non mi forza. Ci vediamo già? No, ci vediamo. Ci vediamo. Non lo abbiamo perdito, non lo abbiamo perdito, non lo abbiamo perdito. Ci vediamo ancora. Sì, siamo in questo mondo. Noi sono qui, non ne ero in questo stato. Noi sono qui. Abbiamo per perdere tutti qui qui. Abbiamo per perdere tutti qui qui. Abbiamo per perdere la polizia. Tattano, come! Non ero qui. Noi. Non si riuscite. Non si riuscite a me in questo caso. Si no, non io l'ho fatto. Questo è tutto a te, L.D., che ducato. Mi? E non conosco che i bambini. Se ti è iniziato a riusciare una cosa, con le balli? Sì, non ce ne prendi che i bambini, non ce ne prendi. No, non c'è niente. No, non c'è niente. No, non c'è niente. Alla, aversa! Alla! Perro No me vengono a me chucar Perché a ti te voy a matar Perro Uy Que enosada Perché perdimos Dice La mar murio La mar que es eso O el amigo tal vez Y ahora reiniciar todo Uy Vamos a reiniciar todo Porque soy un idiota ¿Y tú que ves? Hola, espérate Muéntense Tienes que cerrar En un Uno de aquí Uno de aquí No ahí, no ahí Ahí está, ahí está Cierra, que cierra Cérrame la puerta, policía Uy, otra vez Te voy a matar a nuestra policía Ahí está, eso que es, ¿verdad? Vamos saliendo de aquí Vamos a manejar este carro Se puede, ¿verdad? Todos, vénganse Uy, vamos a manejar Un carro de policía Miren que feo Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Aquí Marina Uy, vamos a manejar Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501